Sicuramente a mio figlio se c'è una cosa che insegnerò è non fare il coglione quando vai a scuola impara le lingue che ti insegnano Anzi pensa che forse, ironicamente parlando, uno dei miei più grandi rimorsi è stato quello di non andare al liceo linguistico Perché mi sarebbe piaciuto enormemente sapere già 3, 4 lingue subito a 18, 19, 20 anni Però questo non è stato, ci siamo accontentati e ce le siamo imparate da noi E in questo video ti spiego il perché imparare una lingua è davvero il cazzo di cheat code La realtà è che se tu volessi tu potresti fare più soldi, potresti vivere meglio e soprattutto dovresti volere più soldi con uno scopo nobile Per cosa guadagni questi soldi? Quando le persone si chiedono come ho fatto a imparare certe cose, come ho fatto a velocizzare i miei risultati Magari come ho fatto a sviluppare certe caratteristiche, certe idee, da dove prendo certi contenuti, da dove mi vengono certe strategie di business È molto semplice, studio, osservo come tu magari anche puoi fare Il problema è che se tu studi solo dal bacino italiano, questa cosa è molto problematica Perché il bacino italiano, anche se non te ne rendi conto perché sei inconsapevole di questo È un bacino comunque ovviamente abbastanza ristretto Perché è un bacino che include, diciamo, nel mondo probabilmente un 100 milioni di persone Non di più, è in Italia 64 milioni, di cui la maggior parte sono, magari tantissimi sono over 60 Sono persone che, insomma, non parlano e non ti insegnano quello che a te interessa E tante persone sono under 14 E quindi se tu noti la percentuale di persone magari che condivide idee, condivide strategie Che parla della tua nicchia, del tuo prodotto, delle tue idee, di strategie, di marketing, vendita Sono, alla fine dei conti, veramente poche Dunque, perché imparare una lingua allora è la soluzione, Giorgio? Solamente perché puoi assumere e attingere a bacini di informazioni diversi? Assolutamente no, questa è la prima cosa La seconda cosa per cui sapere le lingue è il cheat code, ragazzi È perché in giro per il mondo non parlano l'italiano E questo tu devi comprendere, devi smetterla di fare quel patriotta stupido, ignorante Che dice, ah vabbè, ma allora se non mi capiscono sono cazzo di loro No, sono cazzo di tuoi Perché non puoi viaggiare per il mondo, non puoi condividere informazioni Ti stai perdendo una quantità di chance impressionanti L'altra ragione è perché un sacco di potenziali partner lavorativi e non Parlano inglese, parlano francese, parlano spagnolo Ed è così importante per te comprendere che magari tua moglie e tuo marito Parlano un'altra lingua E che se tu non sai un'altra lingua ti stai tagliando fuori tutto il mondo alla fine E se non gli italiani o chi capisce forse un po' di italiano e spagnolo È grave Cioè tu stai già decidendo che il tuo business Principalmente la maggior parte E il tuo moglie e tuo marito sarà una persona italiana Perché questo? Perché escludersi questa cosa? Se tu ci pensi effettivamente ad oggi non esistono più i confini Cioè non esiste più il confine geografico Perché uno prende i voli, tanto quanto e va dove vuole Non esiste più il confine addirittura economico-finanziario Perché tu puoi fare impresa, puoi lavorare comunque con persone in giro per il mondo Tu puoi comprare le cripto, che ormai le cripto diciamo rompono un po' Quelli che sono i muri delle monete, i muri delle valute O delle imposizioni statali, governative, europee, banche centrali Non ci sono più questi limiti Però sì che c'è un limite Ed è il limite delle lingue Le lingue diventano l'unico oggi limite per te Per diventare una persona influente in giro per il mondo Per poter viaggiare in giro per il mondo Per poter conoscere persone in giro per il mondo L'unico cazzo di limite sono le lingue Quindi devi veramente comprendere come il non sapere una lingua Ti taglia fuori veramente da una quantità di opportunità, di connessioni Con un fattore moltiplicativo molto importante Perché dico fattore moltiplicativo? Perché non è solo il fatto che Vabbè Giorgio non conoscerò chi abita in Spagna Quando vado in Spagna non conoscerò una persona spagnola In realtà non è solo un Vabbè è un peccato È una cosa che è uff che peccato No Perché se quella persona in Spagna poteva connetterti con l'altra persona Tarragone La persona Tarragona con la persona Cadige E la persona Cadige con quella in Portogallo E quella in Portogallo capisci come in realtà ti sta tagliando fuori Un qualcosa di esponenzialmente enorme Ti stai tagliando fuori il fatto di poter andare a vivere in un posto Di poter leggere libri in lingua madre Che comunque hanno delle caratteristiche diverse Non riuscirai mai a capire certe battute Certi anche modi di pensare a livello economico Finanziario, lavorativo, sociale, culturale Perché la lingua chiaramente Trasporta con sé un modo di vivere Un modo di comunicare Ci sono concetti e frasi non ripetibili Insomma, le lingue sono importanti Andiamo in conclusione vecchio mio Ti voglio fare altri esempi per mettere in primis il tassello del È importante che io impari altre lingue Su Instagram ti mando magari dei consigli pratici su come imparare altre lingue Però in primis devi prendere tu la decisione di imparare altre lingue Uno, se tu parli in certi ambiti Ambito tecnologico, ambito informatico Ambito di video making Ambito di business Ambito di trading Ambito di investimenti Ragazzi, i termini sono in inglese I termini sono in inglese La seconda cosa è che in certi ambiti O parli l'inglese O parli l'inglese O parli l'inglese A certi livelli o parli l'inglese O parli l'inglese Quindi l'inglese è qualcosa di molto semplice Tu dovresti impararlo Quindi guarda, cerchi se c'è un altro video mio Che ti insegna come imparare una lingua Anche se non sono un professore Ma sto imparando lingue e imparo lingue Mi piace molto Quindi devi proprio capire che se tu non sai la lingua Io non ti prendo come assistente con me Non ti prendo come persona che mi gestisce certe cose Perché ho bisogno che tu mi sappia guardare contratti in altre lingue Ho bisogno che tu sappia rispondermi a mail in altre lingue Posso parlare con persone internazionali in altre lingue per me Quindi le lingue per me Sono una delle prime cose che io cerco In collaboratori vicino a me Quindi se vuoi collaborare con persone di alto livello Tendenzialmente devi sapere Che ti chiederanno il sapere un'altra lingua Quindi spero che la decisione ti sia arrivata Chiara e tonda Imparare una lingua non è complicato Te ne parlerò in altri video È molto semplice Richiede solamente una cosa come sempre Una decisione Quindi riguarda questo video tre volte Prendi la decisione di imparare un'altra lingua Perché le lingue sono il cheat code È molto importante Martene